Oggi andiamo a conoscere un nuovo prodotto davvero interessante nella categoria degli ovali da Paolo. Sono quei pomodori che possono essere utilizzati sia da salsa che anche per il consumo fresco e che vengono coltivati legandoli a un tutore. Vediamo allora questa nuova varietà di ovale che vedete ha caratteristiche di bacche di ottima dimensione che colorano molto bene, vedete, in questo rosso leggermente aranciato senza presenza di spalla gialla. Uno degli aspetti più interessanti di questa nuova varietà è il fatto che unisce la resistenza al patogeno più pericoloso per il pomodoro che è la peronospora anche quella al marciume apicale. Quindi questa varietà è molto tollerante al marciume apicale e quest'anno l'abbiamo potuto vedere bene perché varietà che normalmente tollerano bene questa fisiopatia detta anche culo nero del pomodoro vedete questo è il problema che si è manifestato quest'anno in maniera importante anche in varietà che solitamente tollerano questa fisiopatia come il cencara, come anche il luana normalmente sono molto più tolleranti rispetto ai san marzano hanno fatto alcuni palchi con questa problematica. Ecco, in questa situazione così critica questa nuova varietà di pomodoro ovale è risultata quasi indenne al problema quindi con la presenza di un pomodoro con marciume apicale su quattro piante quindi varietà davvero tollerante al marciume apicale.